C'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima, e magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Cioè lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene? Sì. E quindi se lei lo sa è perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque con il Graviano lei ha intrecci con i parenti, immagino non ha rotto i rapporti col sistema intorno al Graviano, lei sta dicendo una cosa forte, mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo, appena arriva si insedia, è un fiore all'occhiello.